Carlini pronto al tiro un passaggio per Monteverde che torna in forma Ciamarra, Carlini e c'è il gol a 4.30 dal termine del primo tempo lungo per degli esposti Carlini sotto le gambe al lato 2-0 per il Comune di Spoleto i giocatori della Presse Empregliez se vogliono recuperare i due gol di stacco bello il cross per Di Filippo che viene scavalcato e c'è il 3-0 del Comune di Spoleto degli esposti bloccato da Finauro riparte vantaggi della Presse Empregliez e fa il 3-1 vantaggi Ventura per Carlini che si rigira e si porta la palla in avanti grande giocata Carlini grande il tiro e Di Filippo nulla può fare 4-1 per il Comune di Spoleto è bello anche questo il gol sempre del Comune di Spoleto ad opera di Monteverde riparte Carlini tutto solo all'appoggio di degli esposti anche Ventura da solo e degli esposti in sacca 6-1 Ventura anche lui va in gol il capitano della squadra del Comune di Spoleto tante energie ma il risultato non è cambiato ora va dentro ho portato fortuna con questo e pare anche qui Polinori su questo calcio di punizione attenzione e c'è il terzo gol numero 10 Ventura Carlini e c'è l'8-3 di Carlini siamo agli ultimi secondi siamo e finisce qui ci si vede domenica 16 per la finale Comune di Spoleto che vince 8-3 sulla Press & Prayers Grazie